Amministrazione giudiziaria per banca progetto per aver concesso finanziamenti a società legate all'andrangheta per oltre 10 milioni di euro. E' questo il provvedimento scattato giovedì mattina dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, dopo le indagini del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza e del PM Paolo Storari. I finanziamenti sarebbero stati garantiti inoltre dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, accedendo quindi agli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid o a seguito dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina. In altre parole, il denaro finito nelle casse delle cosche risulta, scrivono i giudici definendolo un paradosso, di provenienza statale. Sarebbero in tutto nove le società che avrebbero beneficiato tra il 2019 e il 2023 di questi flussi di denaro, in grado di aggirare le norme antiriciclaggio. Dall'indagine emergerebbe come centrale la figura di Maurizio Ponzoni, imprenditore ritenuto vicino a una cosca dell'andrangheta e con cui i funzionari della banca si sono relazionati direttamente, sebbene formalmente non avesse nulla a che fare con le società che ottenevano i prestiti. L'istituto di credito, attraverso una nota dei suoi legali, ha fatto sapere di non essere al momento commissariato e di continuare ad operare in modo del tutto ordinario. Al contrario, è stata invece rimossa l'amministrazione giudiziaria alla Maison di Moda Alviero Martini, finita nel vortice giudiziario nel gennaio scorso perché gli inquirenti l'avevano ritenuta incapace di prevenire e arginare lo sfruttamento della mano d'opera lungo la filiera delle ditte appaltatrici. La Grif, si legge ora in una nota del Tribunale, ha saputo reagire nel modo corretto, risolvendo i rapporti con un fornitore a rischio in tempi estremamente rapidi e mettendo a punto diverse best practices che hanno ricevuto il plauso del Tribunale.